È la vigilia di Natale e intorno alle 17 viene fatta una chiamata al 911. Per pochi secondi si sente un urlo tremendo e poco dopo cade la linea. Due giorni dopo, la straziante verità viene a galla. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, dato il periodo, voglio rovinarvi le feste natalizie con questa storia. Sì perché il caso di oggi mi ha messo abbastanza ansia, devo essere sincero, perché fa capire che anche in un periodo in teoria spensierato e felice, come il Natale, possono accadere cose allucinanti. Questa storia mi ha ricordato molto un altro video che feci quest'estate, le cui vicende sono sempre avvenute durante il periodo di Natale. Ve lo lascio nelle schede qui sopra, così se vorrete rovinarvi ulteriormente le feste, lo potrete fare guardandolo subito dopo aver visto questo. Detto tutto ciò, cominciamo subito con il file di oggi. Ci troviamo a Carnation, nello stato di Washington. Una piccola cittadina rurale di circa 2000 abitanti. È la vigilia di Natale del 2007 e gli Anderson si stanno preparando per festeggiare tutti insieme in famiglia. La loro è una famiglia molto numerosa. Wayne, di 60 anni, è un ingegnere della Boeing Company, una ditta famosissima che produce aerei e altri velivoli. Sua moglie Judy, invece, con cui è sposato felicemente da 31 anni, lavora come postina per l'USPS, Ufficio Postale degli Stati Uniti. I due hanno tre figli, Mary, Scott e Michelle. Di Mary non sappiamo molto, anzi direi che non sappiamo praticamente nulla. Michelle, invece, vive con il suo fidanzato da circa due anni, un uomo di nome Joseph Thomas McEnroe. Vivono in una roulotte di proprietà di Wayne e Judy, i genitori di lei. L'ultimo dei figli, poi, Scott, è sposato con una certa Erika e insieme hanno due bellissimi bambini, Olivia, di 5 anni, e Nathan, di 3. Come vi ho detto prima, quel giorno sono tutti insieme riuniti per festeggiare la vigilia di Natale. Per essere precisi, in casa, inizialmente, ci sono solo Wayne e Judy. Sono felici, c'è aria di festa. I piccoli sarebbero arrivati di lì a poco, avrebbero aspettato Babbo Natale e avrebbero aperto i loro regali. Un'atmosfera che sicuramente vi sarà familiare. È tutto perfetto, non sembra esserci alcun problema. Ma allora perché quella ghiacciante chiamata al 911? Torniamo un attimo indietro. Come vi ho detto, Michelle, la figlia di Wayne e Judy, vive in una roulotte con il suo fidanzato da circa due anni. Questa roulotte, però, è di proprietà dei suoi genitori che, praticamente da quando è andata a vivere lì, le chiedono di pagarle un affitto. Giustamente, direi. 390 dollari al mese, per la precisione. Ma lei, semplicemente, dopo un po' di tempo, smette di farlo. Ha smesso di pagare l'affitto ai suoi genitori, il che li fa decisamente arrabbiare. I due, infatti, da mesi, avevano cominciato a farle pressione per pagare sto benedetto affitto, ma non c'era verso. Oltre a ciò, stando alle dichiarazioni di Michelle, suo fratello Scott le avrebbe dovuto restituire circa 40.000 dollari. Non sappiamo il motivo, né tantomeno se questo debito esistesse davvero. Fatto sta che, come potete immaginare, non si tratta di una situazione proprio tranquilla. Pensate a festeggiare il Natale sapendo che ci sono tutte queste cose in sospeso. Ansia. Ma i problemi in famiglia non sono solo questi. Sempre secondo le dichiarazioni di Michelle, infatti, i suoi genitori l'avrebbero maltrattata. Senza specificare troppo, dice di aver subito ingiustizie in casa e di essere stata presa di mira per qualche motivo. Il suo ragazzo, intanto, Joseph, cerca di starle vicino in tutti i modi. È molto innamorato di lei e giustamente ci tiene, vuole sostenerla in tutto. Lui però è un ragazzo piuttosto manipolabile. Da piccolo ha subito dei veri maltrattamenti, il che probabilmente ha contribuito a farlo crescere con poca sicurezza di sé e ha fatto anche insorgere dei tic nervosi. In un certo senso, però, per Michelle è il ragazzo perfetto. Riesce ad ottenere tutto ciò che vuole da lui. Si fa ascoltare, si fa rispettare. Cosa che in famiglia, a quanto pare, non riusciva a fare. Joseph, tuttavia, cerca di trovare una soluzione per la loro situazione delicata. Propone a Michelle di andare via insieme. Di viaggiare, scappare da qualche parte. Così da lasciarsi la famiglia e i problemi ad essa collegata alle spalle. In poche parole, le propone di ricominciare tutto da capo e di creare una nuova vita. Anche perché, dal suo punto di vista, ha più senso fare così. Ormai era da due anni che abitavano nella casa mobile di Wayne e Judy e non riuscivano neanche a pagare l'affitto. Era una situazione che causava stress ad entrambi. Sarebbe davvero stato meglio andarsene. Ma dal punto di vista di Michelle, non è così. Lei non vuole mollare tutto. Insiste per rimanere lì e obbliga moralmente il suo fidanzato ad aiutarla. Ora ragazzi, ci avviciniamo al motivo per cui è partita quella terrificante chiamata 9-1-1. Sono le 16 del 24 dicembre 2007. Come detto prima, in casa Anderson in quel momento ci sono solo Wayne e Judy. Ma di lì a poco sarebbero arrivati gli altri parenti per festeggiare tutti insieme. I primi ad arrivare sono proprio Michelle e Joseph. Che però, non hanno affatto intenzione di festeggiare. I due, anziché bussare e farsi aprire, irrompono in casa e sono armati. Immediatamente, Joseph corre verso Judy e le mette un sacchetto in testa. Lo fa perché non vuole guardarla in faccia. Non riesce a guardarla in faccia. Dopodiché, la porta in una stanza sul retro. Michelle, intanto, affronta suo padre Wayne. I due cominciano ad urlare. Lei gli dice delle cose orribili, lo insulta in maniera molto pesante e infine prova a sparargli. La sua pistola però si inceppa. Non spara il colpo. Allora Joseph, capendo la situazione, torna dalla sua fidanzata in soggiorno e spara a Wayne dritto in testa. Poi torna da Judy, la porta in cucina e uccide anche lei, facendola cadere davanti al frigorifero. Non sappiamo quanto tempo è passato tra un delitto e l'altro, ma sembra essere successo tutto molto in fretta. Joseph, allora, una volta compiuti questi orribili omicidi, chiede a Michelle. Ok, e adesso? Era un tuo piano, quindi adesso che cosa facciamo? Lei non risponde subito e in casa cala un silenzio tremendo. L'atmosfera natalizia è completamente sparita, ovviamente. E Joseph è decisamente provato per quello che ha fatto. Alla fine comunque i due decidono di prendere di peso i cadaveri e trascinarli in un capannone nel cortile sul retro. Ovviamente lasciano delle orribili scie di sangue tra tutte le varie stanze della casa. Ci impiegano un'ora intera per ripulire la scena del crimine, ma non se ne vanno. A quanto pare Michelle sapeva o semplicemente aveva previsto che suo fratello Scott, sua moglie e i loro figli stavano per arrivare. Allora cosa fa? Si mette lì ad aspettarli. Rimane circa un'ora in casa col suo fidanzato come se nulla fosse. Un'ora in cui avrebbero potuto ripensarci, avrebbero potuto provare rimorso, empatia, un minimo di pietà, ma invece no. Come previsto, Scott, Erika e i loro figli piccoli arrivano in macchina verso le 17. Scendono tranquillamente dall'auto e si avviano verso la casa. Sono contenti. Finalmente possono festeggiare il Natale. Non hanno la minima idea di cosa era appena successo e non possono nemmeno sospettarlo. Perciò con tutta la calma del mondo entrano e vengono accolti da Michelle e Joseph. Possiamo solo immaginare lo shock nei loro volti. Per prima cosa i due assassini prendono subito di mira Scott ed Erika. Cominciano a sparare verso di loro a sangue freddo nel soggiorno. Erika appena capisce la situazione va in panico e chiede a Michelle perché lo fai? E la ragazza le risponde perché ti odio, perché mi hai sempre odiato. Michelle in quel momento è furiosa, incontrollabile. Scott ed Erika cercano in qualche modo di ribellarsi, provano a schivare i colpi di pistola. Ed Erika riesce effettivamente a divincolarsi, diciamo, e scappare. Ma purtroppo non va molto lontano. Riesce a malapena a raggiungere il telefono e comporre il 911. La chiamata parte, l'operatrice risponde pronto, ma dall'altra parte si sentono solo delle urla agghiaccianti. E poi più nulla. Dopo pochissimi secondi cade la linea. Scott ed Erika vengono uccisi a colpi d'arma da fuoco. Gli ultimi a perdere la vita sono i bambini. Olivia e Nathan. E Joseph ad ucciderli. A quanto pare però non voleva farlo. È stata Michelle ad obbligarlo, dicendogli di non voler lasciare i testimoni. E aggiungendo anche che, poverini, i bimbi erano rimasti sicuramente traumatizzati dagli uomini. E quindi non voleva che crescessero col trauma di aver visto i propri genitori morire. Joseph quindi si convince. E fa fuori anche loro. Ancora una volta, la casa piomba in un silenzio tremendo. La strage è finita, ma la ragazza sa che presto sarebbe potuta arrivare la polizia. Aveva visto chiaramente Erika chiamare il 911. Allora esce di corsa nel vialetto e chiude a chiave il cancello. Spera che così facendo, nessuno sarebbe potuto entrare. E in effetti negli Stati Uniti la polizia non può entrare in casa degli altri senza un mandato o senza il consenso del proprietario. E così, una volta finito il tutto, i due semplicemente se ne vanno. Lasciano la casa devastata, con sangue ovunque, oggetti rotti e i cadaveri di Scott, Erika, Olivia e Nathan. Lì in bella vista. Ma la vigilia di Natale non è ancora conclusa. Effettivamente dopo la chiamata al 911, degli agenti passano per quell'abitazione. Ma trovandola chiusa per via del cancello, decidono semplicemente di andarsene. Non fanno nient'altro. Non sbirciano dentro, non si avvicinano per capire se ci fosse qualcosa di strano. Niente. Sempre per la questione che, senza un mandato, non possono perquisire o entrare in una casa. Il consenso dei proprietari poi non ce l'avrebbero mai avuto perché, purtroppo, non erano più in vita. Quindi, anche se loro non lo sapevano in quel momento, hanno deciso di andarsene perché era tutto chiuso. Sembrava che nessuno fosse in casa. Sfortunatamente, per via di questo, passa del tempo da quella sera e, intanto, nessuno si fa domande né sa che cosa è veramente successo. L'intera cittadina festeggia il Natale, come al solito, senza alcuna preoccupazione. Dopo due giorni interi, una collega di Judy, la madre di Michelle, comincia a preoccuparsi per lei. Quel giorno la donna sarebbe dovuta andare a lavoro, eppure non si è presentata. Strano, perché la collega conosce molto bene Judy. Sa che non è da lei non andare a lavoro e, soprattutto, non farsi sentire. Avrebbe avvisato, se ci fosse stato qualche problema. Questa collega le vuole molto bene. E allora, giustamente preoccupata, prende la sua auto e si dirige verso casa Anderson. Una volta arrivata, anche lei si rende conto che il cancello è chiuso, ma vuole comunque indagare, per capire cos'è successo. Ha un bruttissimo presentimento. Passa quindi sul retro della casa e, da fuori, intravede qualcosa di terribile attraverso le finestre. Allora di corsa apre la porta sul retro, entra in casa e rimane semplicemente scioccata. In un primo momento pensa che la famiglia fosse semplicemente tutta svenuta, magari a seguito di un'intossicazione o qualcosa del genere, ma subito dopo, vedendo anche tutto quel sangue, quindi dopo neanche un secondo penso, si rende subito conto che era impossibile. Quella che aveva davanti era la scena del crimine di una terrificante carneficina. C'è sangue ovunque, oggetti rotti, per cui non perde tempo e chiama la polizia nonostante lo shock. Al telefono la sua voce trema e lei è devastata dal dolore. Gli agenti arrivano presto sulla scena e si rendono subito conto della gravità di ciò che hanno davanti. Nessuno si aspettava che in quel luogo si potesse consumare una tragedia simile, specialmente in quel periodo, nel periodo di Natale. Gli agenti comunque delimitano l'area, portano via i corpi per l'autopsia, si mettono alla ricerca di ogni indizio utile e cercano di ricostruire la dinamica dei fatti. Si rendono subito conto che sulla scena non ci sono tutti i membri della famiglia, mancano per l'appunto Michelle e Joseph. E giustamente devono capire dove sono, devono interrogarli, fargli delle domande. Ma appunto che fine hanno fatto? Dove sono loro? Ecco, non ci crederete mai. Sentite. Appena dopo la strage, i due hanno portato avanti il loro piano di fuga, se così possiamo definirlo. Pensavano di farla franca andando a nord, verso il Canada, poi però hanno deciso che sarebbe stato meglio dirigersi a sud, nell'Oregon. Ma alla fine, decidono di non andare proprio da nessuna parte. Non sappiamo il motivo, probabilmente non sono riusciti a mettersi d'accordo. Fatto sta che alla fine prendono una decisione. Tornano a casa degli Anderson, per far finta di scoprire i corpi. E vi giuro che non sto scherzando, lo fanno davvero. Anziché scappare, tornano a casa. Michelle e Joseph arrivano davanti alla casa, ma la polizia li aveva preceduti. I due, in quel momento, sono circondati dalle forze dell'ordine. Davanti agli agenti, fanno finta di essere completamente ignari di tutto. E anzi, in quel momento, sembrano anche poco interessati alle circostanze, come se fossero assenti. Non mostrano particolare attenzione a quello che stava accadendo. E ovviamente, questo comportamento desta non pochi sospetti ai detective. Fin dal loro arrivo, è subito evidente che sotto c'è qualcosa. E per scoprire cosa, fanno loro giusto un paio di domande. Niente di invadente o che potesse metterli in agitazione. Chiedono semplicemente dove fossero stati la notte della strage. Michelle quindi racconta che la vigilia di Natale sono partiti per andare a sposarsi a Las Vegas. E questa cosa del sposarsi a Las Vegas comunque torna spessissimo. Anche nel video prima di questo, due persone si sono effettivamente sposate a Las Vegas. Vabbè, comunque. Michelle racconta che alla fine però non sono riusciti a sposarsi, perché si sono persi da qualche parte. Quindi hanno deciso di tornare indietro, di tornare a casa, e sono arrivati solo in quel momento lì, il 26 dicembre. Questa versione dei fatti pare non convincere molto i detective, perché per loro è insolito che una coppia decida di lasciare la famiglia, la vigilia di Natale, per andare a sposarsi a Las Vegas. Non è impossibile, non è così tanto assurdo, ok? Ma sembra un po' forzato. Allora uno degli investigatori fa una semplicissima domanda. Chiede a Michelle. Perché pensi che siamo qui? Che cosa pensi che stia succedendo in questo momento? E che ci crediate o no, a questa domanda, la donna crolla. Per la polizia non serve indagare più di tanto, perché improvvisamente i due cedono, raccontano tutto. Michelle e Joseph spiegano ogni cosa agli agenti, compreso il movente di questa strage assurda. Vengono quindi arrestati, scortati sulla volante di polizia, e accompagnati in centrale per l'interrogatorio, dove mettono anche per iscritto le loro testimonianze. Emergono tutte le dinamiche interne alla famiglia e finalmente il movente appare chiaro. Finalmente ci sono delle risposte. Dalle dichiarazioni emerge tutto l'odio che Michelle provava per la sua famiglia. Racconta del debito dei 40.000 dollari di suo fratello, degli affitti non pagati e delle presunte percosse ricevute dai suoi genitori. Su questo punto in particolare però ci sono ancora adesso dei dubbi. Fatto sta che la ragazza spiega che negli ultimi tempi aveva sviluppato un odio viscerale, e ha quindi sfruttato l'ingenuità del suo fidanzato per organizzare quella strage e per farla pagare per sempre alla sua famiglia. Praticamente aveva premeditato ogni cosa e per due settimane aveva discusso con Joseph su quello che avrebbero dovuto fare il giorno della vigilia. Era sicura di non voler risparmiare nessuno. Sentiva di non essere amata e di non essere apprezzata abbastanza da loro. Si sentiva esclusa dalla vita di tutti. Ecco, questo bene o male è il movente di Michelle. Ma Joseph, perché l'ha aiutata fino a quel punto? Ecco, per quanto possa sembrare assurdo, lui è stato manipolato da lei. Joseph voleva che la sua ragazza fosse felice, avrebbe fatto di tutto per lei. Le aveva proposto diverse soluzioni come quella di scappare e ricominciare da zero, ma Michelle non sarebbe stata felice facendo in quel modo e ha insistito per compiere il massacro. Quindi lui, disposto a tutto, l'ha aiutata sia ad organizzarlo che poi a metterlo in pratica. È stata una manipolazione graduale ovviamente e anche molto subdola, che ovviamente non scagiona il ragazzo dalle sue colpe, anzi. Ad ogni modo, nonostante questo odio, nonostante la strage, il movente dei soldi e la manipolazione, Michelle e Joseph si dimostrano pentiti. A quanto pare lui è sempre stato contrario al piano di uccidere la famiglia di lei e al momento dell'interrogatorio dice di sentirsi tremendamente in colpa. Ma anche Michelle non si dà pace. Capisce di aver fatto qualcosa di terribile. I detective quindi ascoltano le loro testimonianze e poi le mettono a confronto. Combaciano. Quindi spiegano ad entrambi i rischi che corrono a livello legale, specificando che la pena per un crimine così atroce sarebbe stata probabilmente un ergastolo o addirittura la pena di morte per tutti e due. E con grande sorpresa di tutti, loro dicono di essere disposti anche a morire se necessario. A questo punto voglio leggervi alcune delle parole di Michelle. Sentite. Sono un tipo di persona diverso. La vita in prigione non è una punizione sufficiente per me. Voglio la punizione più severa, che sarebbe la pena di morte. Voglio rinunciare al mio processo. Ho bisogno di essere giustiziata per tutto quello che ho fatto. Decidere che voglio morire è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere. E ho potuto prenderla senza pensarci due volte, perché so quello che ho fatto e voglio assumermi le mie responsabilità. Joseph poi non è da meno. Addirittura anche lui in aula ammette senza paura di voler essere punito con la morte. Lui però, forse più di Michelle, mostra davvero il suo pentimento. Ci sono diversi video che mostrano il suo comportamento in aula e, in un certo senso, fa quasi pena. Ha spesso dei tic. Non riesce a stare fermo, si agita in continuazione. Il suo tono di voce è calmo in apparenza, ma si vede chiaramente che dentro di sé è tutto fuorché calmo. Infatti, durante uno dei giorni dell'udienza, parlando della strage nel dettaglio, si porta le mani alla testa e si mette a piangere. Guardate. L'uomo è visibilmente scosso e traumatizzato. In quel periodo, infatti, gli vengono anche somministrati dei tranquillanti. Ma nonostante tutto ciò, con una lucidità dir poco disarmante, al processo racconta in modo preciso tutto quello che ha fatto. Ricorda e racconta degli istanti in cui ha sparato ai bambini, anche se alcuni momenti a quanto pare gli sfuggono. Non riesce a ricordarli bene. Insomma, fa un effetto strano sentirlo parlare di queste cose con questa calma. E fa ancora più strano vedere nel video che vi ho mostrato che ad un certo punto non riesce più a concentrarsi e a contenersi e comincia a piangere e fare avanti indietro con la testa. Sembra una contraddizione. Sicuramente aveva qualcosa che non andava. Michelle intanto lotta con i suoi avvocati per farsi dare la pena di morte. Ovviamente i suoi legali non vogliono portarla al patibolo, ma lei al processo insiste e cerca di dire delle cose per aggravare la sua situazione. Cose che poi i suoi legali, i suoi avvocati, smentiscono. Insomma, il processo si dimostra più complicato e più lungo del previsto. In realtà, nessuno ha mai dubitato del verdetto finale, perché tutti sapevano che sarebbero stati condannati. Tutti sapevano che erano colpevoli. Il problema in questo caso sta nel decidere come. Se condannarli all'ergastolo oppure alla pena di morte. A causa di questo passano anni e anni di lotte burocratiche complesse. E nel frattempo questo caso cattura sempre di più l'opinione pubblica. Anche i cittadini comuni non hanno dubbi sul fatto che Joseph e Michelle sarebbero stati condannati. Ci sono prove, testimonianze e un movente. Ma la domanda rimane. Ergastolo o pena di morte? Come penso abbiate capito, Joseph e Michelle vengono processati separatamente e per diversi anni. I loro processi costano tempo e denaro. Tantissimo denaro pubblico a giudicare da alcune fonti. I loro volti sono ovunque e le loro testimonianze fanno arrabbiare tantissimi amici e conoscenti della famiglia Anderson. Si creano quindi due fazioni. Due gruppi. In cui in uno c'è chi li vuole morti e nell'altro c'è chi li vuole nel carcere a vita. Non mi stupisce affatto ma a quanto pare in quel periodo sono di più quelli che li vogliono vedere morti. I legali di Michelle cercano comunque di ritrattare sulla dichiarazione della donna di voler essere condannata a morte. Le vengono fatti i test per capire se fosse in grado di sostenere un processo e li passa. Ma intanto vive questa situazione delicata in cui vuole morire perché non riesce più a convivere con il dolore e la consapevolezza di ciò che aveva fatto. Ma i suoi legali ovviamente cercano di farle avere una pena più leggera. Che secondo me ragazzi è peggio. Cioè lei a quel punto voleva morire. Condannarla alla pena di morte sarebbe stato meglio per lei. Condannarla all'ergassolo invece sicuramente le avrebbe provocato ancora più dolore. Le avrebbe fatto capire veramente a fondo la gravità di ciò che aveva fatto. Quindi non lo so a volte la pena di morte non la capisco. Tipo in questo caso qui secondo me opinione personale poi ditemi la vostra. In questo caso qui non ha per niente senso. Devono capire, devono pagare per quello che hanno fatto e semplicemente uccidirli, porre fine alle loro esistenze non so quanto abbia senso. Comunque tornando a noi Michelle viene tenuta in isolamento e la sua situazione non migliora affatto. Il 6 agosto del 2013 un giudice della corte superiore della contea di King le proibisce di avere una tv o una radio in camera e nega anche la proposta di permetterle un'ora in più fuori dalla sua cella ogni giorno. Quindi diciamo che la sua permanenza in prigione in quel periodo non è affatto delle migliori e se lo merita. Se lo meritava. Joseph nel frattempo evita l'esecuzione solo perché confessa in modo dettagliato e accurato ogni singolo aspetto della vicenda. E anche per una serie di motivi burocratici che non sto neanche a spiegarvi perché non ci ho capito niente. Per farla breve entrambi vengono graziati per vari motivi e nonostante tutto. E così il 13 maggio 2015 Joseph Thomas McEnroe viene condannato all'ergastolo e rinchiuso nel penitenziario dello stato di Washington. Nell'aprile 2016 poi anche Michelle Anderson viene condannata all'ergastolo ma viene mandata al Washington Corrections Center for Women dove si trova tutt'oggi. La loro condanna dovrebbe essere definitiva il che ha fatto subito storcere il naso a tutti quelli che li volevano morti specialmente i familiari rimasti. Per farvi un esempio ecco cosa hanno detto questi ultimi rivolgendosi a Michelle. Sei stata prepotente e codarda. Erika sapeva che avresti sparato i bambini. Ti ha implorato di non farlo e l'hai fatto comunque perché è così che ti comporti. Guarda cosa hai fatto alla tua vita. Guarda cosa hai fatto alla tua famiglia. Tuo fratello ti amava così tanto. Gli Anderson rimasti in vita sono profondamente e comprensibilmente traumatizzati da questa vicenda. È difficile che si riprenderanno. Effettivamente non augurerei mai a nessuno una cosa del genere. Perdere i propri parenti in questo modo deve essere una delle cose peggiori che possano accadere. Già è un trauma perderli per cause naturali. Figuriamoci per un omicidio del genere. Davvero ragazzi questa storia mette molta tristezza. Può insegnarci però che il dialogo e il confronto possono essere gli strumenti migliori per evitare queste tragedie e comprenderci l'un l'altro. Se ci sono problemi bisogna parlarne, se ci sono conflitti bisogna risolverli e se non si arriva da nessuna parte con il dialogo forse sarebbe il caso di chiedere un aiuto esterno. Sicuramente nascondere tutto sotto il tappeto, far finta di niente e continuare ad alimentare odio nei confronti di qualcuno non è la cosa migliore. Neanche la cosa giusta da fare. E questa vicenda ne è la prova. Una prova estrema ma è una prova di tutto ciò. Sarebbe potuta andare molto diversamente. Detto questo ragazzi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto per smorzare un po' la tensione fatemi sapere cosa farete a Natale o in generale per le feste perché io devo ancora decidere e magari potete essermi d'aiuto. Grazie. Spero in ogni caso che rimarrete nei paraggi. Vi auguro delle buone feste, comunque noi ci vediamo venerdì prossimo. E vi ricordo intanto di massacrare il pulsante iscriviti. Adesso però parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!